Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento. Eccolo qua, eccolo qua! Amore, Michelangelo il mio amore. Stavo appunto dicendovi benvenuti per questo nuovo appuntamento con Lancia 037, è arrivato al nuovo pacco, questo è un modello che mi ha commissionato il mio iscritto Giovanni, ciao Giovanni, grazie, è il terzo che mi commissiona, lui si è messo a posto, eccolo lì, eccolo lì il mio amore, ha trovato la scatola sua. All'interno quattro numeri, dal numero 9 al numero 12. Andiamo a vedere subito insieme quello che troviamo, eh. Ci sono parecchie parti in metallo. Ecco qui. Ho preso la forbice, pensavo di averla già presa prima, ma non è così. Intanto ringrazio tutti gli iscritti tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Un abbraccio ai miei buonati che contribuiscono in maniera economica ad aiutarmi a mandare avanti il canale. Grazie a tutti quelli che condivideranno i miei video nei gruppi dedicati e che decideranno, e che decideranno, spero, di iscriversi al canale. Cosa fai? E attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente, grazie. E hanno fatto, come anche per la GTA, l'Alfa Romeo, la Gran Turismo Alleggerita, hanno fatto i fascicoli molto più piccoli. È ovvio che per farmiare carta. Comunque, volevo soltanto far vedere la differenza, ma, ve ne sarete accorti tutti, ma poco male. Però è chiaro che tutto viene più rimpicciolito. Ecco, questo, ad esempio, come potete vedere, è della Ford Gran Torino di Staschiace. Guardate, è veramente tanto più piccolo il fascicolo. Allora, iniziamo a vedere cosa troviamo qui. Eh, 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 amore, fai il bravo. Il parafriamo anteriore, bobine, crociera, sterzo. Allora, vediamo. In realtà c'è anche la sacca liquido del tergifistallo. Ecco. Lui la morde, ma non la mangia, meno male. Ok. Ovviamente il logo della licenza ufficiale, del prodotto ufficiale Lancia. Questo è un bel pezzo in metallo. Io mi auguro soltanto che abbiano avuto l'accortezza di dare il fondo sotto, sotto la vernice. Speriamo. Da qui non si evince nulla. Sembrerebbe di no a guardarlo così, però. Allora, questo è il parafriamo anteriore, tutto in metallo, come vi ho detto. Poi ci sono questi tubi in gomma. Queste sono le due bobine. Questa è in plastica, eh, tutto in plastica. Attenzione a questo pezzo. Intanto sta facendo baldoria dentro la scatola. Questo pezzo è il tappo della sacca del liquido tergifari. Eccolo qui. Questo. Che è anche questo in plastica. Se vi ricordate, la sacca della Lancia Stratos era qualcosa che sembrava veramente reale. Qui siamo andati, anche se esteticamente, per carità fa il suo, la sua figura. Però niente a che vedere con la sacca completa in gomma, bellissima, della Lancia Stratos. Poi abbiamo due serie di viti, AM e CM, tutte e due da avvitare nel metallo. E poi questi pezzi che sono anch'essi in metallo. Però ne manca uno, eccolo qui. Questi due che sono uguali, sono i supporti del parafiamma, mentre invece questo è la crociera dello sterzo. Ecco qui. Quella che poi renderà possibile il movimento sia così che così alla barra dello sterzo. Quindi adesso metto via tutto questo e passiamo subito al numero successivo. Così. Ecco qua. Attenzione mi raccomando al piccolo tappo del serbatoio dell'acqua della sacca tergifarie. Questi due tubicini in gomma. Andiamo solo a vedere un po' il fascicolo internamente. Il mio gattino se ne è andato, ho lasciato qua anche il pezzo di plastica. Bene. Ecco qui. Risultato finale. Anche in questo fascicolo, in questa collezione, così come per la Lancia Stratos abbiamo davvero pochissima storia, come di Dascalia. Le pagine sono sempre otto. Davvero poco. Come la Lancia Stratos, se vi ricordate. Peccato. uscita numero 10. La batteria. Abbiamo anche un pezzo di metallo. telaio di supporto e componenti della batteria. Telaio è in metallo. Eccolo qui. cercavo di metterlo al contrario. Come potevo metterlo al contrario? Ecco. Questo poi va messo così. Adesso non lo schiaccio. Questi sono i due morsetti. I poli della batteria. E' una cosa bella perché, vedete, si li potevano verniciare, ma così sono più precisi come verniciatura, perché sono stati verniciati tutti. Li inseriamo dentro con l'inserimento a mezzaluna e siamo a posto. sono identici. 10D, quindi non ci possiamo sbagliare, destra e sinistra. Abbiamo due tubi. Questo è il cavo rosso, semplicemente chiamato così, è il cavo nero. E basta. Due serie di viti, una per la plastica sp plastica e sm metallo. Ecco qui. E anche per questo numero abbiamo visto tutto. Adesso guardiamo soltanto il fascicolo internamente. E' certo che, una volta montati questi numeri, mancano, tra virgolette gigantesche, soltanto 120 numeri. Eh, ragazzi? Esagerato Centauria. veramente, veramente avete esagerato in una maniera, secondo me, irrispettosa verso chi già fa tanta fatica. Non è pane, non è acqua, è un hobby, però è costoso. È un hobby costoso. Voi, invece di aiutarci, ce lo rendete ancora più difficile da affrontare. Quindi tanti, tanti sicuramente, anche se avete fatto 20 uscite in più, 22 uscite in più, tanti non avranno fatto questa collezione. Io, ad esempio, pensavo di farla e ho preso i primi numeri e invece purtroppo non la farò, perché ho fatto due calcoli e ha detto, no, sono troppi soldi. Non ce la faccio, non ho soltanto questo modello. Ecco qua, intanto vediamo che chiaramente il tubo rosso è il positivo, il nero è il negativo dei cavi della batteria. Questo è il risultato finale. E qui abbiamo, ragazzi, questa la sto facendo di Biazion. Biazion e l'altro è Siviero, Tiziano Siviero, il navigatore. Stavo guardando. Questa è la 037, vabbè, quella che sto facendo adesso. Questa è bellissima anche, mamma mia, che bella questa. La è il grande Munari, Sandro Munari. Ecco qui. Ok, quindi via anche questa. Passiamo al numero 11. Anche qui c'è un bel po' di peso. Il grande Sandro Munari. Guardate, fascicolo rotto. Eh, bucato. vediamo un po'. Allora, telai anteriori, superiore e diagonale e sollevatore auto. Tutti in metallo, questo è in plastica, questi sono in metallo. Allora, questi due pezzi, che sono differenti tra loro, eh, sono corpo sollevatore parte 1 e parte 2. Questo. Poi abbiamo invece questi due che sono uguali, sono i supporti braccetti del telaio, come vi ho detto prima già, in metallo. Tre serie di viti, tutte e tre da avvitare nel metallo, SM, UM e AM. Poi, telaio anteriori e diagonale, danniciato molto bene, e telaio anteriore e superiore. Qui abbiamo queste due parti che sono in plastica e sono identiche tra loro, quindi potremmo usare sia una che l'altra dove andremo a montare, che sono i ganci di fissaggio del sollevatore. E questa è l'asta sollevatore auto, che è in metallo. Sì, questa è in metallo. Tutto è in metallo, anche il piattino sotto. Mettiamo così, questi due pezzi, mettiamoli qua dentro, ma che sono molto piccoli, e ci stanno. Ecco qui le fasi di montaggio. Ecco qui il sollevatore. Questo è il risultato finale. Stavo leggendo qui la Lancia 037 in versione avanzata durante una sessione di collaudo alla pista La Mandria, nei pressi di Torino, eh sì, vicino a Venaria. Ecco qui. Qui c'è uno spaccato del compressore. Al centro i lobi che comprimono l'aria verso il motore. Bene, riteniamo anche questo numero e passiamo all'ultimo ricevuto, il numero 12. Io ho messo un video per rivestire con delle decalcomanie che riproducono il Kevlar, l'effetto Kevlar. Ho messo in abbonamento diamante, che è quello che ha, diciamo, il maggior costo. Però, visto il lavoro che c'è da fare, saranno pochi quelli che andranno a vederlo, anche perché rivestire un sedile con delle decalcomanie non è un gioco da ragazzi, eh. Si può, se si vuole, farlo tutti, ma bisogna avere veramente voglia di impegnarsi e non avere assolutamente nessuna fretta a farlo dell'Audi 4. Ecco qui. L'interaggine intanto, avete visto, arriva, va via. All'interno, traverse anteriori e triangoli del telaio. Anche qui, parecchie parti sono in metallo. Vedo che abbiamo anche la cintura, non vi preoccupate perché non è parte delle cinture di sicurezza, ma questa sicuramente è la cintura che tiene la ruota di scorta perché le cinture di sicurezza sono rosse. Allora, questa è la traversa superiore-anteriore, tutti in metallo, e anche questi sono tutti in metallo, questi quattro pezzi, 3 e 4. Questa è la traversa inferiore-anteriore, e questi i due triangoli, sinistro e destro. Sinistro, lettera L, e destro. Controllatele queste cose, eh. Si possono sbagliare e darvi magari due destri o due sinistri. Può succedere, eh. Questa è la cinghia di fissaggio ruota di scorta, eccola qui. I tagli sono precisi, meno male, perché a volte li trovate sfilacciati oppure incollati storti, allora bisogna andarli a staccare e rincollare, invece questi vanno bene, sono perfetti. I due gancetti qui sono in plastica, non ci sono problemi. Poi abbiamo questi, che devono essere i ganci che terranno la cinghia. Eccoli qua. Ganci, ferma, cinghia. L'inserimento è circolare, una mezzaluna, due serie di viti, GM e EM da avvitare nel metallo. Ecco qui, ragazzi. Un'occhiata all'interno del fascicolo e poi anche questo video unboxing dell'ultimo invio ricevuto della Lancia 037 è terminato. Ecco qui. c'è solo da augurarsi, ma penso di sì, insomma, visto il costo che ha, anche se di altri modelli che ho visto della Icso, che lavorano insieme poi Icso e Centauria, se guardate sotto i telecomandi, i radiocomandi che ci forniscono per la Lancia Stratos, mi sembra anche per l'Audi 4, sotto scritto Icso, dove c'è il portabatteria, bottone, pur essendo edizione Centauria. Dicevo che sicuramente poi combaceranno tutte le scritte, cioè saranno stati attenti a questo, ovviamente, tra una chiusura come questa della portiera, che possa essere sinistra o destra, e il relativo proseguo della carrozzeria, quindi la parte posteriore, la fiancata. Sicuramente combaceranno. Ecco, io sono tranquillo sotto quell'aspetto. Non andranno certo a fare... anche se, ripeto, ho visto in altre collezioni, che però infatti avevo deciso di non fare, e aspettare l'uscita della Centauria, perché secondo me Centauria lavora veramente bene sui modellini. Certo che si può sempre migliorare, però io ho fatto la Lancia Stratos e devo dire che è bellissima. L'Audi 4 è anche, a parte l'estetica che può piacere o meno, ma fatta veramente bene, e quindi sicuramente anche questa non mancherà alle nostre aspettative migliori. Quindi sono fiduciosi, insomma. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo. Il video termina qui. Un abbraccio e un saluto a voi da me e Michelangelo, il mio amore, il mio fratellino, e un saluto a tutti i vostri cari più cari e grazie sempre del vostro preziosissimo tempo e aiutatemi a far crescere questo canale. Se non volete abbonarvi, non importa ragazzi, ma cercate di trovare accoliti, seguaci che mi possano aiutare a crescere quindi con le iscrizioni e soprattutto con le visualizzazioni. Ciao a tutti ragazzi, grazie sempre davvero del vostro tempo preziosissimo e di seguirmi. Ciao.